Battaglio Entry Team Stat А atéเจs Ok, non c'è nessuno Ok non? Ma ci vorrei! Ar optimism che stai scale Vovovovovovovovovove Chi è? Non vedo il nemico. Ok. Occhio. Ah, pulito. Controno qua, Franci. Vai, vai. Matteo dove va? E lui, eh? Non c'è nessuno. Però fate comunque attenzione. Ok. Occhio a sinistra. Un bel grande. Controno, F. Occhio a sinistra. Come ti curi? Eh, dovremmo dove essere. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ma il Gesù Cristo era senza armatura. Non si vede niente. È una cadamana, Sam. Notificando la medicina. Io sto morto. Perché abbiamo fallito l'obiettivo. Come sei coso? Praticamente. Abbiamo fallito l'obiettivo. Oh? Che l'obiettivo abbiamo fallito? Di restare cadamano. E chi era? Quello che ho inciso io? Mi aveva rushato e mi stavo shuttando. Forse era molto. La verità, non lo so proprio chi è. Si apresce un sacco. Grazie. No, però è bello in realtà. È un cavicazzo in questo. Questo c'è una bomba a mano, successo. Come inside. No. C'era scritto questo? No. Che è successo? L'hanno lasciato di qua. È uscito? Sì sì sì. Sì sì. Sì sì. Sì sì. Sì sì. Sì 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 sì sì. Dove sta? Eh boh. Ho sentito qualcuno che grinava insieme a mi scencato. In alto. In alto. Sono completamente rosso. Ma non si vede nulla. Copiti copiti. Non so. Allora. Oddio. È questa nebbiolina, ma che cazzo è? È una nebbia che c'è di solito quando... ho tutti i fumogeni quando stai a barangali, c***o devo controlla io? ok, avanzo? e ora saliamo io qua ho preso, oddio che c***o è? c***o c'è qualcuno qua dentro lsbd hands up a destra contro ongo non riesco a vedere niente c'è un cilinga o un dottito anche a te effe ragazzo di nebbia penso io a me c'è politico c'è nessuno guardate il cartello please do not populate in our pulse grazie scusa chiamicazze chiamicazze morto chiamicazze di merda uno mi ha sparato ma chi è? mi ha disparato di nuovo ma chi è? da sopra da sopra mi siamo ma come? ho preso dove stavo? no, si muoveva no ok andiamo su ok vado aspettate ok occhio a destra dove? cosa? chi? preso 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 dietro tra la terra truppe si è te che si l'ho ucciso però penso cazzo vediamo a te cazzo dov'è? ma dov'è andato? un buon marzo guarda che speranza oh ecco ne hai visto? non lo vedo speso speso oh è questo? non lo vedo non lo vedo attraverso il legno preso sei bene? si prendiamo tutti come non sono morto non lo so non lo so tutto bene com'è? la situazione? a posto? che si a posto c'è un civile qua ci penso io occhio occhio sito humor aia non è che l'ho mappiato per bene ma ho mappiato per bene manci una canata manci una canata no ho sbagliato manci una canata no porco effe sono morto sono morto per l'emorragia cazzo perché l'avevo ammazzato ma? ok tutti gli snorsi sono morti grazie eccola l'ho trovata l'ho trovata la nostra situazione ragazzi ditemi che è l'ultimo siiii finiamo sta parliamo 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 che è fornito? è rissacata qua che? cosa? come di? ma come di? vabbè